musica 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 nonno, qui lasciano le macchine e vanno in centro mi piacerebbe che chiudesse il passaggio qui Che è la cosa assurda, io metto una serie, hai visto? Perché? C'ho anche il diritto. Lei porterebbe questo video? Potrebbe essere un uomo. E lei piacerebbe? Il minimo a cosa potrebbe essere un uomo di bambini? A cosa pensa che si potrebbe fare magari per tirare i personaggi che vengono da fuori? Io sono disposta a qualunque cosa per dare una mano. Per mantenere il parcheggio. Lei cambierebbe qualcosa del quartiere? Eh, cambiare le persone. Non cambierebbe niente niente di questo posto? No, no, nel modo di assoluto. Solamente che prima eravamo in un momento quasi tutta una famiglia. Mi azzurro. Mi azzurro. Mi azzurro. E mi azzurro. Mi azzurro. Grazie a tutti.